Capitolo quindicesimo Era quasi un'ora che Giuseppe e io stavamo preparando tutto il necessario per la mia partenza, quando suonarono bruscamente alla porta. «Devo aprire?» mi chiese Giuseppe. «Aprite», gli dissi, chiedendomi chi potesse venire a casa mia a quell'ora, e non usando sperare che si trattasse di Margherita. «Signore», mi disse Giuseppe tornando, «sono due donne». «Siamo noi, Armand», gridò una voce che riconobbi essere quella di Proudhance. Uscì dalla stanza. Proudhance in piedi osservava i soprammobili del salotto. Margherita seduta sul divano era a meditabonda. Quando entrai le andai incontro, mi inginocchiai, le presi le mani, e tutto commosso le dissi «Perdono». Lei mi baciò sulla fronte e mi disse «È già la terza volta che vi perdono». «Domani sarei partito». «Come può la mia visita cambiare la vostra decisione? Non sono qui per impedirvi di lasciare Parigi. Sono venuta perché in tutta la giornata non ho avuto il tempo per rispondervi, e non volevo farvi credere che fossi indispettita con voi. Proudhance non voleva nemmeno che venissi. Diceva che forse vi avrei disturbato». «Distorbarmi? Voi? Margherita come?» «Piamine, potevate essere in casa con una donna», rispose Proudhance. «E non sarebbe stato divertente per lei vederne arrivare altre due?» Mentre Proudhance pronunciava la frase, Margherita mi osservava attentamente. «Mia cara Proudhance», rispose io, «voi non sapete quel che dite». «È molto grazioso il vostro appartamento. Si può vedere la camera da letto?» «Sì». Proudhance entrò in camera, non tanto per visitarla, quanto per porre rimedio alla sua stupidaggine e lasciare Margherita a me soli. «Perché siete venuta con Proudhance?» Le dissi allora. «Perché era con me a teatro, e andandomene da qui volevo avere qualcuno che mi accompagnasse. Ma non c'ero io». «Sì, ma oltre al fatto che non volevo disturbarvi, ero sicura che giunta alla mia porta mi avreste chiesto di salire da me, e siccome non potevo permettervelo, non volevo che partiste con il diritto di rimproverarmi un rifiuto». «Perché non potevate ricevermi?» «Perché sono molto sorvegliata, e il minimo sospetto potrebbe arrecarmi un grave danno». «È davvero la sola ragione. Se ce ne fosse un'altra ve la direi. Non ci sono più segreti tra noi». «Ecco, Marguerite, non voglio fare giri di parole per arrivare a quello che voglio dirvi. In tutta sincerità, mi amate ancora un po'. «Molto. Allora perché mi avete tradito?» «Mio caro, se io fossi la duchessa tal dei tali, se avessi 200.000 lire di rendita e fossi la vostra amica, e avessi un altro amante, voi avreste il diritto di chiedermi perché vi tradisco. Ma io sono la signorina Marguerite Gauthier, ho 40.000 franchi di debiti. Non un soldo mio, e spendo centomila franchi all'anno. Quindi la vostra domanda diventa oziosa, e la mia risposta è inutile». «È vero», dissi abbandonando la testa sulle sue ginocchia. «Ma io vi amo follemente». «Ebbene, amico mio, bisognava amarmi un po' meno o capirmi un po' di più. La vostra lettera mi ha fatto soffrire molto. Se fossi stata libera, per prima cosa non avrei ricevuto il conte l'altro ieri. O ricevendolo sarei venuta a chiedervi il perdono che mi aveste chiesto poco fa, e non avrei dovuto in futuro altro amante che voi. Per un istante ho creduto di potermi concedere questa gioia per sei mesi. Voi non avete voluto. Volevate conoscerne i mezzi». «Oh mio Dio, i mezzi era molto facile intuirli. Utilizzandoli si sarebbe trattato di un sacrificio più grande di quanto voi non crediate. Avrei potuto dirvi, ho bisogno di ventimila franchi. Voi eravate innamorato di me. Li avreste trovati, a rischio di rinfacciarmeli più tardi. Ho preferito non dovervi niente, ma voi non avete capito questa mia delicatezza, perché è di questo che si trattava. Noi altre, quando ci resta ancora un po' di cuore, diamo alle parole e alle cose un significato e uno sviluppo sconosciuti alle altre donne. Vi ripeto dunque che da parte di Marguerite Gauthier, trovare il modo di pagare i suoi debiti senza chiedere a voi il denaro necessario. Era una delicatezza della quale avreste dovuto approfittare senza chiedere niente. Se mi aveste conosciuto solo oggi, sareste stato anche troppo felice di quanto vi promettevo e non mi avreste chiesto che cosa ho fatto l'altro ieri. A volte siamo costretti a comperare una soddisfazione dell'animo a spese del corpo e soffriamo molto più quando poi tale soddisfazione ci sfugge». Io ascoltavo e guardavo Marguerite con ammirazione. Mentre pensavo che quella creatura meravigliosa, per la quale un tempo avrei invidiato chi le baciava i piedi, acconsentiva in qualche modo a farmi entrare nel suo pensiero, a concedermi un posto nella sua vita e che io non ero ancora contento di quello che mi dava, mi chiedevo se il desiderio umano conosca limiti, quando benché soddisfatto così prontamente come lo era stato il mio, aspira ancora ad altro. «È vero», continuò lei, «noi creature del caso abbiamo desideri bizzarri e amori inconcepibili. Noi ci concediamo a volte per una cosa, a volte per un'altra. Ci sono persone che potrebbero rovinarsi senza ottenere niente da noi, ve ne sono altre che ci possiedono con un mazzo di fiori. Il nostro cuore è capriccioso, è la sua sola distrazione, la sua unica scusa. Io mi sono data a te più in fretta che a chiunque altro, te lo giuro. Perché? Perché quando mi hai vista sputare sangue mi hai preso la mano, perché hai pianto, perché sei la sola creatura umana che mi abbia compatito. Ora ti dirò qualcosa di folle. Un tempo avevo un cagnolino che quando tossivo mi guardava con un'espressione molto triste. È solo essere che io abbia amato. Quando è morto ho pianto più che per la morte di mia madre. È vero che lei mi aveva picchiata per dodici anni. Ebbene ti ho amato subito quanto mio cane. Se gli uomini sapessero quello che si può ottenere in cambio di una lacrima, sarebbero più amati e noi saremmo meno pericolose. La tua lettera ti ho smentito. Mi ha svelato che non possedevi tutte le intelligenze del cuore. È stato il torto più grave che tu potessi fare all'amore, che provavo per te. Era gelosia, è vero, ma una gelosia ironica e insolente. Ero già triste quando ho ricevuto la lettera. Contavo di rivederti a mezzogiorno, di fare colazione con te. Insomma, di cancellare vedendoti un pensiero continuo che prima di conoscerti ammettevo senza sforzo. Inoltre, proseguì Margherita, tu eri la sola persona davanti alla quale avevo immediatamente capito di poter pensare e parlare liberamente. Quelli che bazzicano le ragazze come me hanno interesse a scrutarne la minima espressione, a trarre le conseguenze del loro minimo gesto. Naturalmente non abbiamo amici, ma amanti egoisti, che spendono i loro patrimoni non per noi, come dicono, ma per la loro vanità. Per queste persone noi dobbiamo essere allegre quando sono allegre loro, in salute quando vogliono cenare, scettiche come lo sono loro. Ci è proibito avere un cuore, altrimenti noi siamo schernite, la nostra fama è rovinata. Non apparteniamo più a noi stesse, non siamo più esseri umani, ma cose. Noi siamo le prime del loro amor proprio, le ultime della loro stima. Abbiamo delle amiche, ma sono come Prudence, delle ex mantenute che conservano dispendiosi desideri che la loro età non permette più. Allora diventano nostre amiche, o meglio, le nostre commensali. La loro amicizia si spinge al servilismo, mai al disinteresse. Ci daranno sempre consigli esclusivamente interessati. Poco importa che noi abbiamo dieci amanti di più, perché vi guadagnino vestiti o un bracciale e di tanto in tanto siano portate dalla nostra carrozza e siedano a teatro nel nostro palco. Conservano i nostri fiori del giorno prima e ci chiedono in prestito e gli scialle. Non ci rendono mai una cortesia, per piccola che sia, senza farsela pagare il doppio di quello che vale. Lo hai visto tu stesso la sera in cui Prudence mi ha portato i 6.000 franchi che le avevo pregato di andare a chiedere al duca da parte mia. Mi ha chiesto in prestito 500 franchi che non mi restituirà mai, o che mi renderà sotto forma di cappelli che non usciranno mai dalle loro cappelliere. Così noi non possiamo avere, o meglio, io non potevo avere, che una sola gioia, ed era triste come sono talvolta, sofferente come sono sempre, di trovare un uomo sufficientemente superiore, da non chiedermi conto della mia vita ed essere l'amante dei miei sentimenti più che del mio corpo. Quest'uomo lo avevo trovato nel duca, ma il duca è vecchio e la vecchiaia non protegge né consola. Avevo creduto di poter accettare la vita che mi offriva, ma cosa vuoi, morivo di noia, e se ci si deve consumare tanto vale buttarsi nel fuoco o lasciarsi asfissiare dal carbone. Poi ho incontrato te, giovane, focoso, felice, e ho cercato di fare di te l'uomo che avevo invocato nella mia rumorosa solitudine. Quello che amavo in te non era l'uomo che eri, ma quello che dovevi essere. Tu non accetti questa parte, la rifiuti come indegna di te. Sei un amante volgare, fa come gli altri, pagami e non parliamone più. Margherita, affaticata dalla lunga confessione, si abbandonò sullo schienale del divano e, per soffocare, un leggero accenno di tosse. Si portò il fazzoletto alla bocca, poi sugli occhi. Scusa, scusa, mormorai. Avevo capito tutto, ma volevo sentirtelo dire. Margherita, adorata, dimentichiamo il resto, ricordiamoci di una cosa sola. Noi siamo l'uno dell'altra, siamo giovani e ci amiamo. Margherita, fai di me quello che vuoi, sono il tuo schiavo, il tuo cane. Ma in nome del cielo lo strappa la lettera che ti ho scritto e domani non permettermi di partire, ne morirei. Margherita tolse la mia lettera dal corpetto e restituendomela mi disse con un sorriso di inneffabile dolcezza. Tieni, te l'ho riportata. Strappai la lettera e baciai con le lacrime agli occhi la mano che me l'aveva restituita. In quel momento riapparve Prodance. Lo sapete, Prodance, che cosa mi ha chiesto? disse Margherita. Vi ha chiesto perdono? Esattamente. E voi lo perdonate? Devo, ma vuole anche un'altra cosa. E cosa? Vuole venire a cena con noi. E voi acconsentite? Voi cosa ne dite? Penso che siete due bambini, che nessuno dei due ha un po' di sale in zucca, ma penso anche che ho una fame da lupi e che prima gli direte di sì, prima ce n'eremo. Andiamo, disse Margherita. Staremo tutti e tre nella mia carrozza. Ecco, aggiunse rivolgendosi a me. Nanin sarà già a dormire. Aprite voi la porta, prendete la mia chiave e cercate di non perderla più. Abbracciai Margherita fino a quasi soffocarla. In quel momento entrò Joseph. Signore, mi disse con l'aria di un uomo soddisfatto di sé. I bagagli sono pronti? Tutti? Sì, signore. Beh, disfali. Non parto più. Bentornati su Narrazione senza importanza. Ho amato il monologo di Margherita, sinceramente. L'ho trovato di un'intensità e di una sincerità incredibile e anche di grande dolore, insomma, perché comunque credo che al di là della finzione narrativa ci sia tanto di vero in questo monologo, quindi l'ho amato veramente tanto e sto amando sempre di più il personaggio di Margherita. Spero che vi stia piacendo come sta piacendo a me e come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo iscrivendovi al canale, mettendo un like, un commento condividendo il video. Potete venermi a trovare anche su Instagram Narrazioni senza importanza e come sempre vi aspetto al prossimo capitolo. Alla prossima!